buonasera a tutti ed eccoci in una nuova video recensione questa volta ho acquistato su amazon questo prodotto che non riuscivo a trovare in nessun negozio di articoli alimentari e drogherie che mi serve nello specifico per la preparazione dei sospiri alle mandorle sono dei dolci fatti di pasta di mandorle la cui composizione è 250 grammi di mandorle dolci 250 di zucchero 70 grammi di albume e l'aroma mandorla che non ho mai trovato naturale e mi sono sempre per così dire adattato acquistandone di artificiali questa volta finalmente su amazon ho trovato un prodotto che cercavo da tempo i noccioli di albicocca amari biologici il prodotto è venduto e speduto da amazon dell'azienda cibo crudo si presenta in un packaging davvero buono nero in modo che preserva il prodotto dalla luce conservando le caratteristiche organolettiche qui c'è il sigillo di garanzia vi faccio vedere la confezione che già ho aperto per utilizzarla perché l'acquisto minimo di due barattoli però per il prezzo che le ho pagati veramente è un'offerta eccezionale eccoli qua questi sono i noccioli di albicocca noccioli biologici di albicocca selvatica ne bastano 5 noccioli per mezzo chilo di prodotto quindi 250 di zucchero 250 di mandorle dolci e 5 di questi noccioli la razione raccomandata da lente europeo per la sicurezza alimentare è di 5 di 3 piccoli semi per adulto contengono la vitamina b17 anche conosciuta come amigdalina e mi raccomando non superate le dosi giornaliere raccomandate 3 noccioli per un adulto il sapore è veramente spettacolare sanno di mandorla appunto di mandorla amara e donano un gusto inconfondibile ai preparati dolciari sono utilizzabili anche per gli amaretti e per fare anche il classico amaretto liquore per chi non lo conoscesse di una nota azienda italiana niente penso che sinteticamente vi ho detto tutto la confezione comprende 250 grammi il peso di 250 il peso netto è 250 grammi è biologico specificato anche dal lente che ne assicura la provenienza dei prodotti bio è adatto ai vegani packaging completamente riciclabile molto molto bello e insomma davvero davvero un ottimo prodotto io lo consiglio anche perché solo su amazon sono riuscito a trovarli come al solito se esiste lo trovi su amazon grazie e se avete delle domande o curiosità scrivetemi pure sarò contento di rispondervi buonasera a tutti